Una cerimonia breve, però sentita in considerazione delle sofferenze di tutti i cittadini italiani in questo periodo di Covid. Tenete presente che anche noi nel nostro ambiente abbiamo avuto delle situazioni difficili per quanto riguarda il Covid-19. Sono stati colpiti molte fiamme gialle, sono vicino alle loro famiglie, siamo stati vicino a tutto il personale che ha avuto questa situazione gravissima, però è stato anche di sprone a fare sempre meglio, anche per un rispetto di tutta questa sofferenza che ha patito il popolo italiano in questo momento. Con questo spirito Giuseppe Grassi, comandante regionale della Guardia di Finanza del Piemonte, ha celebrato il 246esimo anniversario della Fondazione delle Fiamme Gialle, una cerimonia avvenuta nel rispetto delle norme anti-Covid. C'è una profonda crisi dal punto di vista economico e finanziario in tutti i settori, ma specialmente per quanto riguarda i lavoratori e le famiglie che stanno soffrendo in questo momento più di tutte. Fondamentale è anche il ruolo della Guardia di Finanza durante i mesi dell'emergenza Covid, con il sequestro di milioni di dispositivi di protezione individuali perché non conformi ai dettami di legge. Ogni giorno venivano impiegati 236 militari della Guardia di Finanza, ogni giorno. L'aspetto fondamentale è la tutela della sicurezza della salute pubblica. Noi abbiamo sequestrato dispositivi di protezione individuale per 2 milioni e mezzo di mascherine, ma abbiamo anche colpito chi ha aumentato i prezzi in maniera illegale, chi ha lavorato sull'e-commerce facendo vedere che c'erano i dispositivi anti-Covid. Tutto questo lavoro che noi abbiamo fatto, lo abbiamo fatto per i cittadini, ma in funzione del fatto anche di dare questi dispositivi alla protezione civile, agli ospedali, e a tutti i cittadini che avevano bisogno. Tant'è vero che sono state subito e immediatamente aperte le pratiche per quanto riguarda la richiesta al dottor Arcuri di poter intervenire, di poter dare tutti questi dispositivi a tutta la comunità che ne avevano bisogno. Un'occasione anche per ricordare i numeri e le principali attività svolte in questo anno dalla Guardia di Finanza. Tenete presente che soltanto nel 2019 abbiamo segnalato per recuperi a tassazione in Piemonte per un miliardo e 150 milioni di euro. Abbiamo ancora trovato 771 evasori totali, gente che è totalmente sconosciuta al fisco. Abbiamo segnalato recuperi all'IVA per la tassazione per oltre 160 milioni di euro. Sono risorse che vengono tolte ai cittadini, specialmente in questo momento di crisi, ed è fondamentale per noi l'azione della Guardia di Finanza. Come dicevo prima, i cittadini si devono fidare della Guardia di Finanza, perché la Guardia di Finanza si fida dei cittadini. Noi stiamo già pronti con una serie di analisi esterne e interne sul seditore del Piemonte per prevenire in questo momento, col decreto di liquidità, che ci possano essere infiltrazioni nel tessuto economico e sociale di questa regione. Cioè intervenire subito, immediatamente, nelle variazioni dei capitali sociali, nelle variazioni dei soci all'interno delle aziende, bisogna tutelare le aziende sane. Questo per noi diventa importante, così come diventa importante anche il discorso di drenare risorse dal punto di vista previdenziale e assistenziale. Cioè 1.500.000 euro di risorse destinate alla previdenza e all'assistenza sono state distratte a quelli che avevano bisogno. Questa è la funzione della Guardia di Finanza.